ovviamente non si può iniziare una relazione su quelle che sono le dislipidemie se non consideriamo che le malattie cardiovascolari uccidono e quello che appare evidente analizzando le cause di morte è che le malattie cardiovascolari uccidono sempre di più e noi non siamo bravi noi stiamo lavorando per evitare ictus e infarto ma siamo scarsi perché la percentuale di gente che muore di ictus e infarto va crescendo nel corso dell'ultimo ventennio e il 55 per cento dei nostri pazienti muoiono per ictus e infarto perché muoiono per ictus e infarto perché esiste una malattia che si chiama terosclerosi di cui vediamo delle immagini di anatomia patologica macroscopica e microscopica nella slide una malattia che prevede l'ulcerazione la perforazione delle placche di colesterolo che si portano che si formano nell'intima che in ultima analisi creano ictus e infarto alla base del creano ictus e infarto c'è l'infiammazione e l'infiammazione è il primo movens della rottura questi sono due lavori consecutivi meravigliosi che hanno dimostrato come il trattamento antinfiammatorio selettivo e specifico nell'aterosclerosi porta a una riduzione dei meis e noi cardiologi definiamo meis tutti gli eventi cardiovascolari una cosa che mi piace dire che io sono stato il primo cardiologo a iscriversi alla simdo e sono convinto che il network di collaborazione tra i cardiologi e i diabetologi oggi sia fondamentale un altro farmaco più antico del cucco si diceva nel mio paese io vengo da modica e la colchicina e la colchicina che è un antinfiammatorio ha dimostrato di ridurre i meis nell'aterosclerosi esistono delle possibilità di intervento nella riduzione dell'infiammazione su tutta una serie di parametri il fumo il i pol i antigeni ambientali e tutta una serie di parametri che le linee guida cardiovascolari indicano come prima modalità di trattamento nei pazienti che presentano un'aterosclerosi e nei pazienti che presentano un'ipercolesterolemia e questo lavoro che è uscito all'ESC di quest'anno ad Amsterdam ad agosto dimostra come l'esercizio fisico determina un aumento della attività fisica e del metabolismo energetico e determina di base una riduzione dei meis questa è la prima cosa che noi dovremmo insegnare ai nostri pazienti diabetici o non diabetici ora il colesterolo andiamo al culmine di quella che è la relazione il colesterolo LDL crea infiammazione crea placca e instabilizza quello che noi poi vediamo essere un ictus o un infarto e la riduzione dell'LDL determina una riduzione di quelle placche che guardavamo in anatomia patologica qualche minuto fa non solo determina una riduzione dei meis determina una riduzione della mortalità ora se io vi illustro questa slide vi faccio una domanda ed è una domanda aperta a tutti qual è il valore di colesterolo ideale se noi guardiamo questo questa meta analisi che indica i cut off raggiunti dai vari studi probabilmente il valore di colesterolo ideale zero nessun paziente di quelli che noi trattiamo per il colesterolo è sovratrattato io vedo spesso negli studi di medicina generale togliere le statine e dire al paziente non serve più o ha il colesterolo troppo basso ma se abbiamo chiaro il concetto che zero level è quello che noi dobbiamo raggiungere nessun paziente è sovratrattato a prescindere dal rischio diverso è dire che a secondo il rischio dobbiamo abbassare il colesterolo di più lo dobbiamo abbassare di più in tutti ma non ci possiamo accontentare di un risultato di 100 di LDL in un paziente high risk ovvero high risk o l'ultima classificazione che non è quella delle linee qui dell'ipercolesterolemia extremely risk cioè in questi pazienti l'LDL va a 40 high risk va a 70 very risk va a 55 ci sono numeri che non riusciamo a raggiungere facilmente nessun paziente è sovratrattato ricordiamoci questa affermazione e soprattutto ridurre l'LDL crea un beneficio prolungato nel tempo e crea un beneficio nel tempo duraturo questa è la domanda che mi avete posto quando mi avete assegnato il titolo della relazione come possiamo curare il colesterolo oggi benissimo preso le linee guida dell'ipercolesterolemia anno 2019 vecchia di quattro anni e questa era la scaletta di trattamento le statine sono il cardine della terapia del colesterolo determinano la riduzione di tutti i tipi di meis infarti morte bypass angioplastica tutto ictus tutto e vanno utilizzate sempre riducono proporzionalmente al rischio del paziente il rischio dei meis cioè più il paziente a rischio meglio funziona la statina ma questo è anche ovvio perché più il paziente a rischio più nel cut off di tempo che noi esaminiamo avremo una riduzione significativa dell'end point il problema di fondo è questo quello che vedete nella colonnina gialla remain risk nonostante il paziente prende la statina esiste un rischio residuo del paziente cioè il paziente che prende statina si può fare l'infarto ok dobbiamo fare qualcosa possiamo associarci le zetimibe le zetimibe da un miglioramento significativo del 18 per cento in più alla statina una delle discussioni che c'è stata a taormina nella simdo dell'anno scorso a seguire la mia relazione se la ricordate è stata sulla possibilità di associare a tutti le zetimibe perché se non riduco mai abbastanza il colesterolo perché non devo utilizzare le zetimibe dall'inizio in tutti ok oggi andiamo avanti rispetto a questo concetto non basta statina più azetimibe in tutti esistono altri farmaci i pcs k9 per esempio che sono anticorpi monoclonali a somministrazione sottocutanea che agiscono su dei recettori e determinano di base una riduzione degli eventi di circa il 50 per cento se io do un pcs k9 una persona uno su due non fa l'infarto uno su due abbatte il colesterolo da 100 a 50 da 200 a 100 da 50 a 25 di mezza il suo colesterolo e di mezza i suoi eventi il problema è che anche l'associazione statina e zetimibe pcs k9 lascia un rischio residuo colonnina in basso il puntatore non funziona non sono pazzo che facciamo così residual risk è nella colonnina altro farmaco nuovo a nostra disposizione l'inclisiran la puntura famosa che si fa una volta ogni sei mesi anche questo abbatte del 50 per cento il colesterolo in maniera stabile se partiamo da 100 andremo a 50 se partiamo da 200 arriveremo a 100 e anche questo lascia un rischio residuo del 42 per cento in associazione zetimibe statina questi due farmaci pcs k9 in clisiran non sono somministrabili se non fai già statino e zetimibe o sei intollerante a questi farmaci voi platea quale utilizzereste per scelta esistono differenze tra questi farmaci beh sì l'inclisiran colonnina sinistra determina un cambiamento dell'ldl persona dipendente l'entità dell'efficacia è più persona dipendente dei pcs k9 il pcs k9 lo riducono un po di meno ma lo riducono in tutti sempre un altro concetto chiaro è che chi fa il pcs k9 non deve passare in clisiran perché lo switch da pcs k9 in clisiran depotenzia l'attività dell'inclisiran oggi sappiamo qualche concetto di paragone non c'è un farmaco di scelta c'è un'esperienza clinica non ci sono trial che direttamente paragonano i due farmaci hanno un effetto abbastanza simile con una modalità di azione diversa in uno diamo gli anticorpi in uno diamo l'RNA che fa produrre gli anticorpi altro ritrovato farmacologico l'acido ben pedoico l'acido ben pedoico è meno potente dell'inclisiran e dei pcs k9 riduce del 20% e può essere dato solo come turn line therapy può essere aggiunto alla statina e alle zetimibe e anche l'acido ben pedoico dà un rischio residuo di circa il 50 per cento acido ben pedoico o uno dei primi due beh vediamo i vantaggi di ciascuno l'acido ben pedoico è somministrabile in tutti anche il rischio moderato tutti i nostri pazienti diabetici hanno un rischio moderato quindi è somministrabile in tutti i diabetici abbatte il colesterolo solo del 20 per cento in addonna alla statina e alla piazzetimibe e costa sessanta euro i pcs k9 costano molto però si somministrano ogni tanto con una cadenza molto più lunga hanno una migliore efficienza per il paziente e abbattono il colesterolo di più sono somministrabili solo nei pazienti high risk ora aggiungere più farmaci ai pazienti determina sicuramente chiaramente un beneficio addizionale noi non dobbiamo fermarci a statine zetimibe perché rinunciamo a evitare infarti ed ictus tuttavia rimane un rischio residuo nonostante tutto cerchiamo di capire il perché cos'è un rischio residuo il rischio residuo è un rischio che permane dopo l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione a nostra disposizione ora seguitemi in questo ragionamento che è un ragionamento banale fatto su un trial che non c'entra niente normalmente un trial funziona così noi creiamo due gruppi in uno diamo il farmaco in uno non lo diamo e vediamo cosa succede questo è un trial fantastico in cui in maniera crescente l'utilizzo di un farmaco in questo caso in paglifozin nello scompenso cardiaco determina una riduzione della mortalità addirittura del 13 per cento cioè noi diamo il farmaco il 13 per cento e meno muore a 33 mesi ma questo è un ottimo risultato e se lo leggo così vuol dire che io sto dando all'ottanta sette per cento dei miei pazienti il farmaco inutilmente se deve vivere vivrà se deve morire morirà lo stesso a prescindere dall'azione l'empaglifozin questa si chiama medicina basata sull'evidenza quello che noi facciamo e prendiamo un farmaco facciamo una statistica e decidiamo che lo dobbiamo dare a tutti il problema è questo però che facendo così noi diamo tante volte il farmaco inutilmente la verità è che non dovremmo mai rinunciare a capire perché facciamo le cose cos'è un rischio residuo un rischio residuo è una cosa che avviene perché noi trattiamo solo le LDL esiste oltre le LDL un colesterolo rimanente il colesterolo rimanente è dato dalle VLDL dalle ILDL dai chilomicroni che sono capaci di attraversare la barriera dell'intima è dato dalle HDL cosa succederebbe se noi valutassimo questi end point uno per uno questa è una tabella di rischio di tutti i colesteroli rimanenti e come vediamo bene l'ILDL di base si associa a un aumento del rischio i chilomicroni si associa a un aumento del rischio guardate questo questo è un lavoro che io ho fotografato all'esc che è bellissimo ti dice sostanzialmente che trattare le HDL non serve a niente noi siamo convinti che le HDL sono un colesterolo buono in realtà non sono affatto buone le HDL troppo basse curva rossa aumentano la mortalità le HDL troppo alte curva blu aumentano la mortalità le HDL vanno mantenute in un regime di millimoli tra 1.3 e 1.8 non solo sopra 1.8 determina una mortalità esponenziale un paziente che ha 80 di LDL muore di HDL muore di più a prescindere dalle sue LDL e se io gliele abbasso col della cetrebib o con l'evacetrebib non ho nessun beneficio sulla mortalità le HDL sono un colesterolo rimanente non trattabile che lascia un rischio residuo e che determina aterosclerosi altro lavoro dell'esc di quest'anno curva rosa la curva rosa si corre correla l'aterosclerosi con le HDL altro colesterolo rimanente i trigliceridi i trigliceridi sono un lipide che determina il rischio di morte improvvisa specie associata al colesterolo proporzionale all'entità dell'aumento i fibrati non funzionano quanti di voi si sono meravigliati dello studio prominent in cui noi trattavamo i trigliceridi con i fibrati e la mortalità restava uguale andiamo a analizzare lo studio prominent noi abbattiamo i trigliceridi ma aumentiamo le HDL quindi paradossalmente un farmaco che noi diamo per i trigliceridi ha un'azione magnificante le LDL quindi magnificante il danno delle LDL se invece utilizziamo i PUFA l'eskim l'esapent gli acidi grassi polinsaturi otteniamo un meccanismo razione diverso ma se lo facciamo a basse dosi non funziona gissi prevenzione studio dell'85 non servono a niente dati a 3 grammi al giorno si dovrebbero dare a 18 grammi al giorno quanti di noi danno 18 grammi al giorno perfetto esiste un farmaco che hanno codificato adesso questa è la dimostrazione che vanno date a 18 grammi al giorno esiste l'eglicosapente til che già è disponibile in america e ora arriverà in europa che in add-on alla statina riduce il rischio residuo e riduce l'aterosclerosi e lo riduce perché ha un effetto di stabilizzazione sulla placca altro cut off di colesterolo residuo la lipoproteina cos'è è un LDL mascherata dalle proteine e la lipoproteina di base si associa e correla con un aumento dell'infarto dell'ictus e della mortalità e la lipoproteina si può trattare con la feresi oppure con la niecina il problema della niecina è che da reazione cutane abbassa la lipoproteina ma è un medicinale non più autorizzato e allora la Novartis cosa ha fatto sta purificando la miecina l'ha modificata leggermente è uscito un farmaco che per ora si chiama LI3473329 ma che dopo domani non domani avremo a disposizione sui nostri tavoli per ridurre il colesterolo rimanente e il rischio residuo ultimo una delle ultime slide colesterolo residuo infiammazione trigliceridi lipoproteina ma anche diabete nella malattia terosclerotica se noi non curiamo il diabete e curiamo solo il colesterolo lo dico una parola di diabetologi non otteniamo un buon risultato se noi non diamo l'aspirina antitrombotic therapy non otteniamo un buon risultato in conclusione se dovessi scegliere il messaggio finale da portare a casa citerei quello che ho imparato dal Santorini noi eravamo centro reclutatore del Santorini e siamo stati primo centro reclutatore per numero di pazienti il Santorini ci disegna una cosa non basta avere i farmaci a disposizione bisogna usarli guardate i dati del Santorini il 54.1 per cento dei pazienti nostri in Europa e in monoterapia fa solo la statina il 33,5 per cento è a target un terzo soltanto è a target ora è vero che noi dobbiamo combattere con queste persone che mi firmano le lettere ed è vero che loro continuano a monitorarci però è vero che solo i coraggiosi vengono ricordati nella vita grazie